Cari amici ben ritrovati su Meteo Giuliacci, l'aria fredda manderà via anche al sud, gradualmente l'aria calda giunta dal nord Africa, questa bolla calda che ha fatto schizzare le temperature sulle estreme regioni meridionali nelle ultime giornate, schizzare verso l'alto, anche se questa bolla calda trasportava tra l'altro del polviscolo sariano a quote soprattutto medio-alte. Comunque, comunque avremo bel tempo al nord con cielo prevalentemente sereno, vedete la nuvolosità soprattutto al centro e al sud, sull'Appennino centro-meridionale, sul versante adriatico dove saranno possibili delle sfiocchiettate praticamente sino a bassissima quota, 100-200 metri, come potete osservare dalla nostra grafica, anche sull'Appennino centrale tra l'Abruzzo, vedete, il Molise, qualche fiocco anche sul Garbo. Altrove invece piovigini, nulla di che, vedete, nuvolosità irregolare, ma nella giornata di lunedì sul resto del territorio, a parte le zone appena citate, non sono previste grandi precipitazioni, qualche fenomeno anche sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia, anche verso il Messinese, qualche fiocco sull'Etna. Per il momento, cari amici, è tutto, io non ho altro da aggiungere, prendiamoci quindi questa rinfrescata che giungerà anche al sud e si apre una settimana davvero di stampo invernale. Arrivederci.